Sguardi di collezionista Luigi Molinis e 900. Queste le tre mostre che la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone, Parco, propone per l'estate 2011. Un'altra grande giornata per la cultura di Pordenone che si conferma con tutta la sua effervescenza di offerta, sempre più una città che ha la cultura come uno dei suoi elementi identificativi. Oggi andremo a presentare le tre mostre che si svolgeranno durante l'estate. È stata data una particolare enfasi a queste mostre per il collegamento di fatto tra le mostre stesse e il territorio. Non ci sembra motivo migliore di offrire una cosa del genere durante i mesi estivi dove ci auguriamo che la frequentazione della mostra possa essere come numeri anche più alta delle precedenti che già hanno dato grande soddisfazione alla precedente amministrazione. Quella che viene presentata oggi è la prima, appunto rappresenta il trittico delle mostre che condurranno praticamente Pordenone e la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea fino in autunno e costituisce sicuramente un'occasione per dimostrare un'ulteriore volta, anche se ce ne fosse bisogno, la vivacità culturale di Pordenone. Quindi speriamo che questa anche varietà di offerta culturale sia apprezzata come sono state le mostre precedenti e quindi invitiamo tutti i cittadini di Pordenone e anche del territorio e non solo anche della regione a visitare questi importanti eventi che verranno inaugurati. Per ulteriori informazioni www.artemodernapordenone.it